And hi guys, I'm Andrewx, and today come potete vedere siamo qui su questo nuovo episodio della Minecraft Krautcroft E ci sono... raga, ho aperto la... no vabbè ho aperto la MyModPack Ok raga, a parte il fail di prima, vabbè, siamo sulla Krautcroft Spero vivamente che non sia successo nulla nella MyModPack Perché sennò... cioè non ho fatto neanche il backup Sennò sono... vabbè, sono una persona molto intelligente Come potete vedere non ho la skin perché il mio internet mi vuole tanto tanto bene E niente, allora oggi, a parte grattarmi la gola, quindi... Ok, volevo cercare, ecco appunto, dei pig, delle mucche o delle robe così Per farci un bellissimo... un bellissimo coso che fa le cose Allora intanto abbiamo della pala, la mia pala, grazie Del legno Andiamo un pochettino se troviamo del legno No, blocchi di terra, blocchi per costruire Legno, ok, ci sono anche già queste qua E in più direi che le faccio di spruce, sì Sì, direi di sì Facciamoci tipo... 8... sì, 32 stick Così in teoria dovrebbero andare bene Speruma, speruma, speruma Vediamo un pochettino così se vanno bene Mannaggia, spero che non sia successo nulla la MyModPack Ma ho paura che sia successo l'inevitabile Cioè dovrò... givarmi le cose che ho perso Vabbè, poco male dai, non l'avevo ancora fatto granché Comunque allora, oltre al fail fantasticissimo che ho fatto Qui mettiamo la stradina Allora questa stradina a me, se devo essere sincero, piace tanto Cioè mi piace alquanto tanto Ma che cosa? Non so dove mettere gli animali Se fare un'altra cosa qui O qui, faccio una cosa tipo così Ok, faccio tipo qui questo qua E inizio facendo qua 3 3 4 anzi facciamo E poi li divido per... Per specie Boh, non lo so Non devo ancora decidere Però vabbè, intanto facciamoci sta cosa Perché poi mi ha messo Alex, non si sa Però vabbè Cioè io non riesco a capire Io ho la skin di Steve Sul sito di Minecraft io ho detto Steve E lui mi continua a mettere Alex Sono un maschio ma non ha già Alla peppina Comunque allora, sì, va bene Mettiamo questo qui, quindi così Fino a qui E in teoria dovrebbe andare Ok, ora qui dentro io direi di fare tipo Così Ok E poi Così E così No No, 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 no Così Ok Così, direi di sì Ci faccio qui La stradina Con il legno bianco Stavolta O no Meglio così Sì dai, ci sta Prendiamo altro legno bianco E facciamo delle Delle slab Ce l'ho del legno bianco? No La risposta è no Vado a tagliare del legno bianco Ok, eccomi Allora, legno bianco intendevo quello chiaro Però In effetti io ogni volta dico Ok, eccomi Però voi, cioè Lo vedete Quando Cioè io taglio Vabbè Cacca papù Va bene così Allora, prendiamo questo Facciamoci Ma sì, se i slab vanno più che bene Facciamo La cosa Magari anche lì lo faccio Visto che qui l'ho fatto Cioè, visto che qui ho fatto questo Qui magari è buono e giusto farlo Pure O no Vediamo come viene Se viene bene, bene Se no L'ho tolto No, non mi piace Più che altro perché ho finito i blocchi E non mi va di costruire né altri Vabbè Poi vedrò come farlo Allora Dopo aver fatto questo Allora, io direi Qua galline Qua maiali Qua mucche E qua pecore Ovviamente ne terrò Qua due E magari vediamo di fare Una farm Più avanti Di appunto Ogni animale Lì ne teniamo Giusto due Per prendere Ogni volta Non so Facciamo Gli facciamo fare Il cucciolo E poi Prendiamo la carne Da lì Non sono ancora Sicuro Di ciò che vorrò andare a fare Comunque Allora Intanto Ok Fanskate Va bene Però io volevo fare Anche pure Questi qua Allora Questi qua Sì dai Ne faccio due Due A sto punto Due No In effetti Perché ho fatto sta cosa Non si sa Però vabbè Due E Due Di questi Ok Due Due Vediamo un pochettino Dove È notte Dormiamo Aspetta ma Ecco infatti Dormiamo Dicevo Non mi cala più la fame Io non ho ancora capito Perché non mi mette Steve Almeno Steve Non Non La mia skin Almeno Steve Io non ho ancora capito Perché non si connette In realtà Il mio computer Però vabbè Allora Qui direi così Però un po' Un pugno in un occhio Se devo essere sincero No Ok Le faccio tutte Di Di Spruce Sì ciao 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 Meno male che non mi hai dato fuoco Perché se no Mi sarei Arrabbiato Alquanto Ma Oh l'ho detto L'ho detto Ed è successo Allora Dopo dei mostri Dopo dei mostri Qua Ok La redstone Magari la mettiamo qua Dopo aver fatto questo Togliamo questo Non qua magari E questo qui Neanche qui Oggetti di natura Perché l'ho messo In oggetti di natura Vabbè Sì Vabbè Vediamo qui Dovrei avere Altro Spruce Però Non mi serve Altro Spruce Perché ce l'ho Già qui In effetti No Me ne servono due Quindi Tac Ok Andre Si Sei molto Un genio Uno E due Ok Non lo so Ma non mi piace proprio Quello lì Tac E tac Ok Qui l'ho chiuso Giusto perché Almeno Boh Da più Non lo so Perché l'abbia chiuso Sinceramente Però vabbè Vabbè Facciamo una cosa Di questo tipo Alternata anche Qua Non lo so Vabbè Lasciamolo così Per ora E poi si vedrà Vado a far così Che in realtà Non serve a nulla Per fuori Questa recensione Però A me basta Che gli animali Non escano Cioè nel senso Tanto i mob Non li uccidono Gli animali Questo è poco Ma sicuro Allora Vediamo un pochettino Qua c'era il ferro Io volevo fare No La carota Mi serve Ce l'ho la carota No no La carota Però ho dei semi Spero O no Sì ho dei semi Ok Cerchiamo 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 Cioè cerco Più che Cerchiamo Una Bellissima Mucca Ragazzi ho visto Un enderman Non c'è più L'enderman Comunque Ora che ci No c'è Non c'è C'è non c'è Vabbè Ora che ci penso Però Allora Sì Sono morto Bene Dov'è che era L'enderman Vabbè Ora che ci penso Comunque stavo dicendo In effetti Cercare Animali È un po' Uno Fra rigolette Spreco di tempo Perché Perché io Prima Mi farei La casa Cioè nel senso Finirei Comunque la casa Prenderei Altri materiali Eccetera Poi Prenderei La via Per andare A cercare Un villaggio Che di seguito Magari diventerà La nostra fonte Di Animali Perché appunto Nei Villaggi Comunque troviamo Le carote E le Non servono A nulla Però troviamo Le carote Che ci servirebbero Per appunto Per appunto Come si dice Per prendere I maiali Che i maiali Ce li abbiamo vicino a casa Quindi Io direi che Aspettiamo Magari Cerchiamo Cioè Cerco Un villaggio Io da solo Off camera Ed ora Passerei Al Vedere Di fare qualcos'altro Cioè nel senso Ora abbiamo fatto Il recinto Che per ora Non è Non lo utilizzeremo Però vorrei fare Qualcos'altro In questo episodio Visto che Non serve a nulla Con il recinto Magari Ci facciamo Un bunker Sotterraneo Cioè Dalla caverna Che ho fatto Ci creiamo Magari Una Diciamo Una Seconda casa Ma appunto Sottoterra Che Visto che Visto e considerando Quanto tempo Ci ho messo A scavare Quella cosa Sarebbe anche Buona e giusto Visto che Se no Diventerebbe Inusata Anche se Comunque la useremo Per scavarci Le robe Però Magari Un po' più di roba Cioè un po' più di roba Giù Potrebbe Potrebbe voler dire Guarda Hai più roba giù Puoi venire giù A scavare Quando vuoi Che così almeno Se hai un Se ci si rompono Tutti i picconi Ce li hai Qua Comunque In tutti i casi Allora direi di prenderci Il piccone di ferro Lo mettiamo all'inizio Visto che Comunque l'ascia Va benissimo Per attaccare i mostri E Non so Faccio uno Speed Sì uno speed run Magari Qui c'era La redstone Che non mi andava Di prendere Però Mi da fastidio Che sia qui Quindi la prendiamo Tac E quanta ce n'è Mamma mia Allora Mettiamo una torcia Usciamo Tac 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 Ok E Regà Niente Non so se taglierò O velocizzerò Ma in tutti i casi Ci vediamo Quando avrò Fin Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, eccoci qua. Allora, vi spiego un pochettino com'è strutturata questa cosa. Allora, intanto questo... sì, il pavimento mi sono dimenticato di abbassarlo. Comunque questo qui sarà diviso in due parti. Allora, questa, come potete vedere, è divisa dalla prima parte con un muro. Che, appunto, è questo qui. E allora, cosa succede? Qua abbiamo la crafting table e la fornace. Qui ci sarà un'altra cesta, un'altra doppia cesta. Qui lasceremo la cobblestone, la gravel, la dirt, quella che non ci serve comunque. Qui lasceremo le cose magari più preziose. Cioè, lascerò le cose più preziose magari quando vado a scavare off camera. O comunque se scavo, lascio lì la roba. Quando poi avrò finito di scavare o comunque ci servirà la roba, verremo qui a vedere se ci sono le cose che ci servono. Potrebbe sembrare un allungamento di strada e in effetti lo è. Però, cioè, mi piace la cosa che posso svuotarmi l'inventario subito. Posso guardare qui, visto che c'è la cobblestone. Ora poi ci metterò anche il legno. Potrò farmi anche il piccone se mi si romperà. Qui potrò cuocermi il ferro per farmi un altro piccone di ferro magari se mi servirà. E quindi mi piace molto questa cosa perché almeno ho tutto sotto mano e sotto controllo. Mi piace veramente tanto. Ora, cioè, se piace a voi potete scrivermelo con un commento, lasciandomi anche un mi piace. Iscrivendomi al mio... iscrivendomi, sì, io... dovete iscrivere me al mio canale, sì, certo. Magari iscrivendovi al mio canale consigliatemi magari qualcosa da fare. Magari, non so, un blocco da mettere o comunque... Sì, poi cambierò tutta questa cosa qui, a parte l'entrata in stone. Quindi toglierò la gravel, la dirt, la cobblestone, scusate. E le varie cose e le metterò in stone, ovviamente. L'unica cosa che ora non l'ho messo a fare, quindi... Mi sembrava uno spreco di tempo per appunto il video. Perché comunque non volevo andare a fare la cosa di bellezza della casa, ecco. Ora era giusto per scavare un pochettino e farvi vedere cosa andremo a fare in quella miniera. Ora, io spero tantissimo che vi sia piaciuto l'episodio. Lasciate un mi piace, condividete, commentate. Hendrix chiude. Ciao. Ciao.